buon pomeriggio ragazzi benvenuti alle pagelle di modena cittadella come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale di cliccare sulla campanella così sapete subito quando esce un nuovo video partiamo gagno 6 e mezzo gara senza troppe senza troppi interventi che ha dovuto fare una gara di ordinare amministrazione tranne quell'occasione al 94esimo dove si è fatto ha seguito bene la punizione stavolta e poi c'è stato il colpo di testa del giocatore del cittadella lui l'ha deviato un po col corpo l'ha deviato sul giocatore rimbalzo pale comunque uscita fuori è stato un intervento determinante perché era finita la partita per cui è stato bravo spiderman ponzi 6 gara che è stata un pochino migliore nel secondo tempo perché giocando da braccetto di sinistra l'ho visto un pochino più in difficoltà ma non tanto per ponzi piuttosto quanto che duca non copriva modo per cui quando anche l'azione che ha portato la rete del pareggio delle cittadella proviene sostanzialmente dalla sua faccia lì lì secondo me la copertura di duca non c'è stata molto non ha aiutato molto in fase difensiva ma ponzi è dovuto secondo me è riuscito a gestirsi bene poi nel secondo tempo è ritornato in difesa quattro e ha fatto il ruolo di terzino lì se si è gestito bene non è stata una gara super ma neanche bruttissima insomma senza infamia senza lode quindi un 6 giusto se lo porta a casa 0 5 la peggior partita da quando a modena ha sbagliato all'uscita nell'uscita con il giocatore del cittadella che ha fatto il cross poi dopo c'è stato un buco centrale quando cassano ha ricevuto il pallone e lì probabilmente ci doveva essere zaro lui è andato a cercare fortuna per fermare quello che ha fatto il cross e non c'è stata copertura su quelle su cassano poi comunque la gara di zaro ieri è stata affannosa cercava sempre questi anticipi oppure è stato inserito un giocatore del cittadella in attacco che ha fatto un po sportellate con lui non riusciva mai andargli sopra veramente era in difficoltà ieri zaro e brutta brutta gara deve cercare un po perché nelle ultime due partite abbiamo preso gol anche per colpa sua su quelle uscite avventate per fermare l'avversario su verdi nell'occasione del rigore di verdi poi questa volta su quel giocatore che ha fatto il cross per cassano deve cercare di leggere meglio le situazioni non essere troppo avventato perché rischiamo e stiamo prendendo dei gol veramente a cazzo di cane per colpa di queste uscite un po troppo avventate quindi deve darsi con una regolata zaro riccio 5 e mezzo non mi è piaciuta molto la gara di riccio parte che ieri ha fatto tutti i ruoli che poteva fare da difesa è partito da braccio di destra nel secondo tempo ha incominciato con un ruolo centrale poi è stato dirottato come terzino destro li ha fatto te nel terzi nel ruolo di terzino destro ha avuto quella buona occasione quella propensione dove a palomba ha fatto quella bellissima apertura dopo lui si è prodigato in avanti ma non ha concluso granché l'ho visto troppo pasticcione troppo non usava bene alla testa secondo me ieri riccio era partito discretamente bene nel primo tempo con il ruolo da terzi da braccio di destra però dopo nell'andare in là con la gara l'ho visto un po confusionato un po appannato e può capitare insomma ha fatto sempre delle buone gare però la gara di ieri non è stata delle migliori ucada 5 e mezzo gara di poca sostanza io caldo calda non lo ricordo che faceva sempre quei retropassaggi a riccio riccio zaro poi la manovra di ieri del primo tempo è stata riccio zaro ponsi zaro riccio ponsi tutto questo tric e trac tric e trac e ocada insomma non è che si è prodigato tanto in avanti ha fatto una gara di poca qualità giocava più il pallone all'indietro che il pallone in avanti ma tutta la squadra poi nel primo tempo non è stata un granché andiamo avanti palumbo gli do il 6 e mezzo palumbo anche nelle gare dove non giochiamo bene o lui risulta sempre uno dei migliori e si vede che sta giocando col freno a mano tirato perché c'è quel cartellino giallo che non può prendere perché sennò siamo nella merda più merda dato che abbiamo tre centro capisti contatti vabbè che c'è battistella gargiulo di nuovo fuori gerli vediamo se rientra questa settimana per la trasferta di cremona però comunque palumbo sta sempre giocando poco il freno a mano tirato per via di questa munizione e ad ogni modo comunque la gara di palumbo è stata buona è stata buona nel secondo tempo mi è piaciuto un po di più ma tutta la squadra ha migliorato un pochino di più nel secondo tempo quindi 6 e mezzo magnino 6 6 e non è delle gare migliori magnino leggermente sta calando è in quest'ultimo fase del girone di andata però è anche uno che sta come palumbo stanno tirando la carretta dall'inizio della stagione per cui ci può stare un momento di appannamento insomma nel finale del girone di andata in ogni modo ieri anche capitano di giornata non me l'aspettavo ma aspettavo che potesse essere gagno o anche zaro e c'è stato magnino e mi fa molto piacere perché le prestazioni che sta ottenendo in questa stagione sono assolutamente positive quella di ieri è stata un po così cosa quindi 6 andiamo avanti con manconi 66 stiracchiato perché nel primo tempo non mi è piaciuto manconi era stato troppo anche negli appoggi non era preciso mi ricordo una bella azione che poteva essere pericolosa invece di allargarla bene su nukada che era un passaggio semplice semplice la passata male però nel secondo tempo mi è piaciuto di più ha fatto anche quel bellissimo assist per strizzo dove lui è stato poi spostato sulla trequarta al posto di bosanai e insomma si cercava di coprire un po il contropiede cittadella nelle ripartenze e di manconi mi è piaciuto mi è piaciuto un po di più però gara molto poco anche lui comunque sta cercando di sta tirando la carretta anche lui dall'inizio della stagione perché gli avevo detto che potenzialmente potevamo essere manconi e dipendenti e non ci sono andato tanto lontano perché manconi è vero che non sta facendo dei gol a raffica però è un signore che proviene dai campionati di serie c e sta giocando praticamente tutte le partite con noi in serie b in una squadra che sta lottando per entrare poi off per cui secondo me la fine d'ora è super positiva la stagione di manconi queste ultime quest'ultima partita così così ma gli do il 6 bosanai 5 brutta prova di bosanai bosanai non mi è piaciuto affatto mi aspettavo poi è vero che cittadella è una squadra che ti fa giocare male è anche la squadra che è più in forma in questo momento però bosanai secondo me doveva sfruttare meglio l'occasione perché tener giù tremolata non è semplice e se non sfrutti le occasioni come queste qua insomma è un grosso peccato è vero che probabilmente ci vuole più di una gara da titolare per fare in modo che lui entri anche in sintonia perché un conto giocare gli ultimi 15 20 minuti di una gara è un conto partire dal primo minuto quindi insomma sono due 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 gare diverse fondamentalmente però la gara di ieri l'ha toppata 5 duca 7 l'unico che un po cercava di accendere la lampadina lì in avanti autore della rete del terzo minuto peccato che determinate ripartenze non abbiamo sfruttato molto duca e a volte lui non dava via il pallone con la giusta profondità cercava un po di giocare in orizzontale piuttosto che in verticale soprattutto nel secondo tempo ma dava l'idea di essere l'unico un po pericoloso l'unico un po su altre quarti che poteva fare qualcosa un ultimo passaggio peccato che al di là della gara del gol a terzo minuto non siamo riusciti ad essere molto offensivi in attacco nel primo tempo poi nel secondo qualcosina è cambiata ma peccato comunque la gara di duca veramente buona qualcosina devi migliorare in fase difensiva perché è vero che zaro ha fatto il cassone è vero che abbiamo lasciato il cassano in aria da solo però se darmi una mano anche tu dietro e soprattutto a ponzi non so se prendevamo quel gol lì comunque ad ogni modo la gara di duca è estremamente positiva falcinelli sei meno sono buono perché nel primo tempo ha giocato bene insomma ha giocato abbastanza bene ha cercato di fare sportellate con i difensori della della delle cittadella e giocare cercava di dare facere a fare poi regista offensivo cercare di tenere il pallone distribuirlo di qua di là nel secondo tempo non mi è piaciuta molto quella poi la partita di falcinelli poi bosnia gli aveva dato anche un bel pallone tirato addosso all'avversario e abbiamo la la malattia degli attaccanti che infamia gol falcinelli l'ultimo gol che credo che abbia fatto è stato in casa contro la ternana per cui dobbiamo aspettare ancora non so quanto per vedere un gol un altro gol di falcinelli e ad ogni modo è abbastanza positiva la gara di falcinelli vorrei che mi facesse più gol ma nella carriera di falcinelli non è che sono sempre state delle stagioni strabilianti dal punto di vista realizzativo per cui è una più una seconda punta piuttosto che una prima punta però almeno 7 8 gol vorrei che mi piacessero falcinelli nell'arco di una stagione come aveva fatto la passata stagione gara di ieri da 6 meno andiamo avanti con i sostituti cotali 6 un pochino cioè quando ci siamo schierati a 4 nel secondo tempo la musica leggermente è cambiata fino anche se il copione fino al settantesimo è rimasto bene o male uguale al nel primo tempo però comunque secondo me abbiamo ottenuto dei punti di riferimento li abbiamo ri ottenuti questi punti di riferimento rimettendo una difesa a 4 e cotali ha fatto una gara abbastanza pulita ordinata di solito cotali non è che è un giocatore che ti strapazza gli occhi nel vederlo ma non fa neanche delle sbavature tremende da vinciarlo con delle insufficienze per cui una gara da 6 strizzolo a 5 l'anno la passata la prima la partita con il como 4 e mezzo questa da 5 strizzolo sedmai di gol messa possi afferzi a me strizzolo piace come giocatore per me ha le caratteristiche per giocare proprio in questa squadra come centro avanti proprio le caratteristiche di gioco un giocatore che ti sa tenere sul pallone giocatore che davi anche il pallone con qualità e anche una discreta velocità è chiaro che un giocatore che gli devi fare dei cross comunque però ha una buona tecnica però strizzolo devi fare gol cioè figlio mio anche se non sei in condizioni fisica brillante perché dall'inizio della stagione non sei in una buona condizione fisica e va bene però c'è a como ti allunghi il pallone sbagli colpo di testa e questa volta ti imbalzi poi cross di palumbo capisco che è difficile essere brillante essere decisivo se non giochi con continuità e non hai una buona condizione fisica però che da uno come te i quei gol li deve fare in una gara poi anche tirata come quella e come era quella di ieri cioè gli avversari dei dei playoff sono questi non è che ti lasciano 25 occasioni a partita per cercare di farti far gol devi fare gol ripeto io organizzo il pulmino e vi porto tu facci dentro il buon fan teniamo l'urda tutti quanti magari tenete il miracolo comunque 5 battistella 5 e mezzo buon impegno però non è stato non ha fatto giocate di però da battistella che cosa mi aspetto che non gioca mai gioca due tre partite nel nell'arco del girone di andata per me bianco ha fatto bene a metterlo in campo però se un po adeguato ai ritmi della gara non è affatto delle giocate particolarmente rilevanti quindi si merita un 5 e mezzo vorrei un po di più da battistella però è un po discorso di strizzolo se non gioca mai le condizioni fisiche ne difficita però è sempre uno che proviene da un infortunio si è un po rimezzo infortunato questa stagione insomma secondo me dovrebbe essere dovremmo trovare una collocazione a gennaio per cercare di ridargli una condizione fisica che giochi con continuità in un'altra squadra magari anche in serie c perché ha bisogno ha bisogno questo ragazzo di giocare ma a ora come ora non ci serve perché stiamo lottando per altri obiettivi secondo me se va a giocare in una squadra di bassa serie b buona serie c ritrova un po lo smalto migliore perché su questo ragazzo questo ragazzo ci tengo per me forte però bisogna di giocare è evidente per greffi 6 ha ridato un po di sicurezza anche a zaro serve per greffi per greffi è capitano giocatore che ti dà carisma è un giocatore che ti incita insomma è il nostro capitano fa bene secondo me bianco non far giocare tutte le partite perché deve essere un po gestito per greffi che fare un campionato con continuità tutte le partite insomma alla sua età non è facile non è facile per me invece bianco sta gestendo perfettamente e comunque nel suo ingresso e ha ritrovato insomma il modo ha trovato un po sicurezza un po di di coraggio e si vede che è servito insomma comunque si merita il suo sei bravo per greffi poi giovannini cinque e mezzo mi aspettavo un po di più ci credevo un po in giovannini quando è entrato magari quel serpentine che lui fa a quei rigori che si è sempre guadagnato quando eravamo in serici con tesser oppure certe gare dell'anno scorso mi aspettavo che facesse una giocata decisiva poi da gara non era neanche facile insomma ci credevo ci credevo in una giocata buona di giovannini purtroppo non è venuta ma ragazzi cioè non ha giocato ha giocato a piacenza ha giocato a como e ha giocato adesso ha fatto tre partite in un minuti che ha fatto arriviamo alla mezz'ora comunque non ha fatto non è stato incisivo come si poteva aspettare quindi si merita il cinque e mezzo bianco sei meno sono buono perché comunque non abbiamo perso mister discorso è che siamo tutti d'accordo che il cittadella era una squadra in forma era una squadra più in forma in questo momento però queste partite in casa secondo me vanno vinte vanno vinte perché capisco che un avversario che ti fa giocare male perché è evidente non è difficile trovare in questa stagione un modena che ha giocato male come a livello di gioco ha giocato male con la mandoria e con il cittadella appunto è andato a sprazi sul fatto di metterne difesa 3 subito dall'inizio ci poteva stare lo so forse vuole giocare un po più sulle fasce visto che cittadella gioca con questo 4 3 1 2 magari volevi allargare le maglie avversarie per cercare di colpirle con qualche verticalizzazione con bosanai con manconi con duca che poi si è risultata una scelta vincente subito al terzo però la squadra si è un po appiattita si è un po forse adagiata sulla rete che ci ha portato in vantaggio invece di insistere ci siamo un po spaventati su questa pressione che esercitava il cittadella invece di essere appunto incisivi eravamo tic toc tic toc non credo che questa cosa ti sia andata molto a genio di fatti poi nel secondo tempo è cambiato rimesso la difesa 4 per dare dei punti di riferimento diversi insomma apprezzo il fatto che è tenuto giù tremolata su questo l'apprezzo perché non è che se uno giudica tremolata in malo modo perché ce l'ha con tremolata almeno io non lo giudico così è evidente che in queste 6 7 8 ultime gare forse l'assenza di gerdi anche è inciso sulle sue cattive prestazioni si vede che tremolata non è in forma in questo momento quindi se si fa della panchina poi bosanai è stato cazzone a non sfruttare l'occasione ma intanto ci abbiamo provato intanto l'hai messo e insomma non ha dato delle risposte magari super esaltanti super positive però insomma la maglia è più importante del nome che c'è dietro per cui per me ha fatto stra bene a tenere in panchina tremolata anche se qualcuno adesso può dire visto che bosanai non ha fatto niente era mai stato giù tremolata ma è chiaro che quello che non gioca mai è sempre quello che doveva giocare però comunque ripeto io se torniamo indietro se torniamo alle a luna di sabato io anch'io avrei messo su bosanai perché se lo a parte fatto che se lo meritava e tremolata si meritava di stare a panchina e quindi qualche turno di riposo secondo me tremolata gli fa sol che bene quindi l'unica cosa che un po non mi è piaciuta sulla conferenza stampa che ha fatto alla pregara è quando ha detto che i giocatori non devono essere attaccati perché ci sono delle persone dietro al giocatore per me sono come dei figli tutte frasi che per me non hanno senso perché è normale che chi fa questo mestiere chi gioca a calcio soprattutto a determinati livelli è soggetto a delle critiche è soggetto a delle esaltazioni si fanno delle belle gare quindi è normale normale i giocatori lo sanno i giocatori sicuramente guardano i social e tutto quanto però insomma è il gioco delle parti quindi noi come tifosi li critichiamo o li elogiamo a seconda delle prestazioni quindi anche loro lo sanno che se fa anche gare li bastoniamo se fanno bene li esaltiamo quindi per me questi discorsi non hanno senso io non li farei a prescindere perché fa parte del gioco del calcio comunque ragazzi gara di ieri un po così cos'ha mi aspettavo i tre punti e adesso andiamo a cremona andiamo in questa questa trasferta che può essere che invece sia una trasferta sicuramente è una squadra molto diversa rispetto a cittadella che tende a farti giocare male forse la cremonese tende anche a farti giocare perché è una squadra che comunque è la migliore difesa del campionato andiamo a affrontare appunto una squadra noi non facciamo golo sono la migliore difesa del campionato proprio alla perfezione ci cade a pennello questa gara però magari se in modena se trova un avversario che gioca a calcio anche in modena che gioca a pallone perché comunque noi la tendenza a dominare le gare ce l'abbiamo su questo sotto gli occhi di tutti e quindi ragazzi se vogliamo stare dentro al playoff questi avversari vanno battuti vediamo non vuoi uscire sconfitto dal campo della cremonese perché è pericolo perché abbiamo la Sampdoria dietro a cinque punti ricordiamoci sempre che la Sampdoria spinge perché vuole andare su un playoff e quindi insomma le postazioni per stare nel playoff non sono tantissime quindi se tutte quelle dietro vincolo e noi noi non stiamo al ritmo non è semplice quindi ricordiamoci sempre che abbiamo un mese di gennaio difficile queste due gare noi non le dobbiamo fallire mi raccomando dai gialli ecco